Serata speciale, il 3 maggio, si parla di integrazione, di accoglienza, come sarà fatta? Sì, allora domani sera, mercoledì 3 maggio alle 20.45, c'è questo incontro dibattito dal titolo Voci di un'accoglienza possibile. Il tema è appunto quello delle migrazioni e della possibile accoglienza a livello nazionale sul territorio. Proprio partendo dal tema nazionale sarà con noi Matteo Alisei della segreteria di Più Europa, che ha presentato in Parlamento, affirma anche delle minoranze, una proposta di legge. Poi ci saranno due amministratrici, Marcella Messina del Comune di Bergamo e Floria Lodetti del Comune di Nembro, Anna-Lisa Colombo della CGL di Bergamo, poi due esperienze di associazioni, Mesa Popolare e Intrecci di Storie, e esperienze di gruppi cittadini che in questi anni e in questi mesi hanno accolto, che sono terra buona e cittadini accoglienti. Qual è l'obiettivo di questa serata? Allora, l'obiettivo di questa serata è che a fronte di una situazione nazionale che vede, diciamo sempre, una situazione emergenziale e vede l'Italia, diciamo, spesso sempre impreparata su questa situazione e con difficoltà anche, ovviamente, di normative a livello europeo. Le amministrazioni locali spesso, come dire, si fanno da parte rispetto a questa necessità. Noi ci siamo posti la domanda se era possibile dare una risposta e quale risposta poteva essere. Abbiamo deciso di cercarla insieme domani sera e di dare un contributo appunto a questa domanda, a questa necessità, a queste situazioni che avvengono in Italia e nel mondo. Allora, questo incontro di battito si svolgerà presso il Teatro degli Storti di Alzano Lombardo alle 20.45. Invitiamo le persone che parteciparanno, che hanno intenzione di partecipare, di venire anche prima in quanto all'interno degli spazi del teatro saranno allestiti degli stand di associazioni e gruppi che hanno collaborato con noi sul territorio per appunto la costruzione di una cultura dell'accoglienza. Situazione migranti di cui si è parlato anche proprio ad Alzano Lombardo per la questione montedinese. Voi come la vedete? Rispetto alla possibilità che ci sia un'accoglienza di richiedenti asilo nella frazione di Montedinese, Alzano Viva Cittadinanza Attiva si mette a disposizione sin da subito per collaborare con i cittadini della frazione e con gli enti che gestiranno questa situazione. Ecco, Alzano Viva Cittadinanza Attiva insieme ad altri gruppi nel coordinamento cittadini accoglienti ha già accolto una famiglia di cittadini ucraini a Montedinese avendo la collaborazione e il contributo dei cittadini che ovviamente vanno correttamente ed adeguatamente informati.